la tassa raccolta rifiuti va pagata in una casa disabitata ebbene la norma fa due distinzioni casa disabilitata o casa inabitabile le due distinzioni sono essenziali perché una casa disabitata se ha tutte quante le funzioni che permettono di poter essere abitata anche solo durante l'anno dovrà andare a pagare la tassa raccolta rifiuti perché perché è idonea essere abitata e di conseguenza produrre anche rifiuti attenzione però nel momento in cui una casa risulta inabitabile e per essere inabitabile ci devono essere dei requisiti fondamentali primo sape il video poi non devono esserci mobili non deve essere allacciata a tutte e tre le utenze quindi non deve esserci acqua luce e gas in questo caso l'immobile non può essere utilizzato e di conseguenza non sarai tenuto e obbligato a pagare la tari per tutte quante le vostre domande scrivetemi qua nei commenti like al video grazie a tutti